Riprendiamo la lezione di arte sacra contemporanea andando ai musei vaticani. I musei vaticani hanno una sezione che si chiama proprio collezione di arte contemporanea. Questa collezione di arte è stata voluta da Paolo VI proprio nell'intento di ripristinare il dialogo tra la Chiesa Cattolica e la cultura contemporanea. Quindi è una giovane collezione, tant'è che è stata inaugurata il 23 giugno del 1973 e copre un arco cronologico che va dalla fine del XIX secolo, quindi dalla fine dell'Ottocento, fino al Novecento inoltrato. Ci sono molte sale, 36 sale se non ricordo male, 8.000 opere di pittura, scultura e grafica. Queste opere sono state donate nel corso degli anni da artisti, collezionisti, entri privati e pubblici. La maggioranza delle donazioni è stata attivata proprio da Paolo VI, il quale alla fine del Concilio Vaticano II ha invitato il mondo dell'arte ad incontrarlo. Questo incontro è avvenuto, è un momento storico, il 7 maggio del 1964. Da questo incontro è scaturito un messaggio agli artisti e c'è anche un'omelia che viene, diciamo un discorso in realtà, non un'omelia, un discorso, che Paolo VI farà a queste artistiche che lui ha coinvolto. In quella sede il Pontefice aveva sottolineato l'effettiva distanza tra la Chiesa e l'arte contemporanea. Una distanza che stride rispetto allo stretto e fecondo legame del passato. Quindi Paolo VI usa dei toni molto, molto vibranti. Dice proprio, noi siamo stati amici, dobbiamo tornare ad essere amici. La Chiesa e gli artisti, è evidente che si è creata una frattura, ma, dirà Paolo VI, la Chiesa ha bisogno degli artisti, non ne può fare a meno. E se anche gli artisti non dovessero raccogliere questo invito, in un qualche modo gli stessi pastori dovranno diventare artisti, perché c'è bisogno dell'arte sacra per l'annuncio cristiano. È un messaggio di una grandissima forza e per l'appunto questo museo quindi nasce proprio con un obiettivo molto concreto. Le opere che sono all'interno del museo, come dicevo, in gran parte sono state donate e comunque ci sono opere di grandissima importanza. Citiamo alcuni degli autori presenti. Si va da Van Gogh a Bacon, da Chagall a Carrà a De Chirico, Manzù, Capogrossi, Fontana, Burri, Matisse. Ecco, una cosa assolutamente evidente è che Paolo VI aveva un grande interesse per l'arte, un interesse che lo ha portato proprio anche ad avere amici in questo ambito, a cercare questo dialogo. Detto questo, passiamo a una delle prime opere che sono all'interno di questa collezione. Si tratta di un quadro di Gerardo Dottori, un perugino, un quadro che risale al 1927. È un quadro futurista. Il futurismo è un movimento culturale che nasce in Italia su iniziativa di un poeta, Tommaso Marinetti. Poi ci saranno anche altri artisti, anche visivi. è un movimento che raccoglie, appunto, poeti, scrittori, pittori, scultori, registi televisivi, registi cinematografici. Diciamo, tutte le arti, in un qualche modo, possono avere una declinazione futurista. Che cosa dicono i futuristi? I futuristi, come dice il nome stesso, guardano al futuro e guardando al futuro anche sottolineano la necessità di una rottura con la tradizione, con il passato. Ci sono alcuni temi che a loro stanno particolarmente a cuore che sono legati poi alla vita alla vita di quel periodo. Il movimento, la velocità, le riprese aeree, le macchine, l'industria, il mondo che cambia sulla base dell'energia elettrica che si diffonde dappertutto e che porta luci diverse e che porta tante conseguenze. Questi futuristi sono dei provocatori che spesso intervengono nei teatri delle diverse città. Marinetti dice che proprio dall'Italia, proprio in Italia nasce questo movimento perché l'Italia è il paese che più di tutti gli altri è attaccato al passato e alla tradizione che invece bisogna assolutamente superare. Tra i manifesti futuristi ce ne sarà uno anche dedicato proprio all'arte sacra futurista. Un manifesto del 1932 di cui appunto posso leggere alcuni passaggi perché mi sembrano così assolutamente assolutamente interessanti. Ci sono alcune premesse. La prima è premesso che non fu indispensabile praticare la religione cattolica per creare capolavori d'arte sacra. Quindi qui Marinetti tra l'altro era un anticlericale e è sempre stato molto critico nei confronti della religione però per l'appunto un manifesto di arte sacra futurista lo ha scritto e comunque la premessa è questa non c'è bisogno di praticare la religione per creare capolavori d'arte sacra. Un'altra premessa ancora importante è un'arte senza evoluzione destinata a morire. Questa è una premessa che loro mettono davanti a tutto. E quindi il futurismo che dicono è distributore di energie pone all'arte sacra il seguente dilemma o si rinuncia a qualsiasi azione esaltatrice sui fedeli oppure bisogna rinnovarsi completamente mediante sintesi trasfigurazione dinamismo di tempo spazio compenetrati simultaneità di stati d'animo splendore geometrico dell'estetica della macchina. Un accenno subito all'uso della luce elettrica che nel decorare le chiese con suo fulgore dice Marinetti bianco azzurro superiore in purezza celestiale a quello rosso giallo carnale e lussurioso delle candele le meravigliose pitture sacre di Gerardo Dottori primo futurista che rinnovò con originale intensità l'arte sacra gli affreschi futuristi di Gino Severini nelle chiese svizzere le molte cattedrali futuriste con un dinamismo di forme in cemento armato cristallo ed acciaio realizzate in Germania e Svizzera sono i segni di questo indispensabile rinnovamento dell'arte sacra quindi per loro l'arte sacra ha bisogno di un rinnovamento totale altrimenti è destinata a morire e loro si propongono come la strada giusta una strada in cui per l'appunto è il movimento sono le macchine sono è il dinamismo anche diranno poi le visioni dall'alto siamo in un'epoca in cui anche si sperimenta sempre di più i voli aerei che erano cose relativamente relativamente poco frequenti ma che diventano sempre più frequenti e quindi leggo alcuni punti di questo manifesto il primo soltanto gli artisti futuristi perché ricchi di un'immiginazione illimitata possono dipingere o costruire un inferno tale da terrorizzare le generazioni che hanno subito eroicamente gli infernali bombardamenti del Carso e sono allenati ad una vita meccanizzata più pericolosa delle fiammelle da gas povero dell'inferno tradizionale secondo punto soltanto gli aeropittori futuristi maestri delle prospettive aeree abituati a dipingere in volo dall'alto possono esprimere plasticamente il fascino abissale e le trasparenze beate dell'infinito ciò invece non è consentito ai pittori tradizionali tutti più o meno legati dall'ossessionante realismo tutti ineluttibilmente terrestri e quindi incapaci di innalzarsi fino ad un'astrazione mistica c'è da dire che i futuristi prendono le mosse dal punto di vista stilistico dai puntinisti per certi versi e poi e poi comunque studiano molto il movimento studiano molto la dinamica e arriveranno verso l'ultimo periodo della della loro azione a dedicarsi particolarmente appunto alle visioni aeree terzo punto soltanto gli artisti futuristi ansiosi di originalità ad ogni costo e sistematici odiatori del già visto possono dare al quadro all'affresco e al complesso plastico la potenza di sorpresa magica necessaria per esprimere miracoli quindi continuano a dire soltanto noi possiamo fare quarto punto soltanto gli artisti futuristi che da vent'anni impongono nell'arte l'arduo problema della simultaneità possono esprimere chiaramente con adeguate compenetrazioni di tempo spazio i dogmi simultanei del culto cattolico come la santa trinità l'immagorata concezione e il calvario di Dio ultimo punto soltanto artisti futuristi elettrizzati di ottimismo colore e fantasia possono oggi precisare in un'opera d'arte sacra le beatitudini nel paradiso futuristi tra le altre cose esaltavano la guerra esaltavano l'azione esaltavano tutta una serie di appunto sono interventisti e appunto dei grandi provocatori ora questo questo quadro di di Gerardo Dottori del 27 effettivamente ha una ha una sua forza nella scheda che troviamo sul sito del museo c'è una frase proprio di Tommaso Filippo Marinetti che parlando di questo quadro dice la crocifissione è caratterizzata dall'affascinante fluidità dei corpi delle donne piangenti ai piedi della croce queste sembrano i dolorosi prolungamenti del corpo stesso di Cristo tutti imbevuti di una luce extraterrestre che costituisce il personaggio dominante del quadro quindi è la luce che è la quindi questo quadro realizzato nel 27 in realtà il Gerardo Dottori Perugino aveva già realizzato anche altre opere di tipo sacro e alla fine questo quadro è stato inizialmente tacciato di rappresentare il sacro in modo indecente era comunque un'opera rivoluzionaria e comunque di questa del del 27 poi esiste anche un'ulteriore copia realizzata nel 28 di analoghe dimensioni che poi fu esposta la Biennale d'Arte Sacra nell'anno santo del 1950 e io direi che ci fermiamo qui per ora